ok si siamo a san gennaro messo piano qui con un mitra in mano perché adoro scardinare il panico no 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 aspetta 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 via che stiamo registrando via che metti pausa stop stop ok ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono toni game 17 ragazzi siamo qui su watch talks 2 dopo 20 ore davanti al pc a scaricarlo mamma mia ho dovuto mamma mia dormire per un giorno intero allora ragazzi qui siamo su watch talks per testare gli fps anzi per testare il gioco quanti fps va ok come potete vedere abbiamo un tot di 58 60 57 54 fps perché ai fps così passi perché sono registrando con qualità alta sono registrando a 1920 80 quindi alta qualità quindi si abbassava tutto uno schifo totale perché io non abbasserò mai la grafica di questo gioco sotto il basso perché fa schifo non mi interessa neanche se andrà 200 fps perché io se devo giocare gioco proprio con me gioco proprio così perché la qualità è ottima quindi la temperatura sta sui 70 in più quindi 70 gradi centimetri quindi sto scappando da questi sbirri perché devo seminarli al più presto se no muoio e riparto qui dove sono morto dove morirò sì così funziona e la cosa più bella di questo gioco è che puoi hackerare ma io lo adoro mi sono innamorato di questo gioco quando l'ho iniziato perché ho scoperto che potevo hackerare quindi perché io non ho mai visto dei video su youtube non ho mai visto perché non volevo rovinarmi la sorpresa quindi ho registrato e quindi ragazzi che dire possiamo anche continuare tutta la notte a parlare a chiacchierare mentre sto testando questi fps si si muori bene ah è morto che bello ma quello la so si ok sinceramente le armi non stanno troppo meglio quelle degli sbirri quando li uccite li prendi prendo questo bolide pesante e proseguo verso la salita la quindi ok allora il gioco si sta surriscaldando parecchio anzi si sta surriscaldando parecchio la scheda video la sento mamma tipo quando metti in moto l'auto parte il motore che cazzo di rumore comunque la temperatura sta sui 78 gradi centigradi mamma mia quando arriverà l'inverno pesante a questo computer mi aiuterà moltissimo in una stanza avvio cucito stu e e mi riscaldo un po' comunque grazie tante per questa visione signori miei grazie tante per questa visione quindi iscriviti al canale lasci like commenta se ti è piaciuto il video se non ti è piaciuto metti dislike tanto non mi offendo quindi ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ammulanza mandate un'ambulanza è orribile c'è qualcuno nelle vicinanze uccidetelo 9 1 1 dichiari la natura dell'emergenza prego moriremo tutti dovete mandare degli agenti ci ammazzano tutti gli agenti sono stati inviati non perda la calma guida come lo squilibrato qualcuno lo deve fermare dobbiamo bloccare il bastardo mi hanno colpito il sospetto ha abbandonato il veicolo agente a terra ripeto agente a terra lo vediamo lo vediamo lo seguiamo per le unità di terra il sospetto il sospetto ci spara il sospetto 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 No, no, no. No, no. No, no.